Ciao investitore e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Filippo Angeloni, imprenditore e consulente finanziario. Oggi non ti parlerò di quanti soldi ho fatto all'interno del mondo cripto, ma comunque tramite investimenti o speculazioni, cosa che se ci pensiamo nessuno fa tra vari youtubers, specialmente quelli cripto, facciamolo qualche dissing ogni tanto. No scherzo, loro lo fanno per un motivo che è super valido, ossia privacy e sicurezza. All'interno del mondo cripto è veramente una tematica molto molto seria. Comunque oggi ti parlerò, faremo quindi uno switch, non ti dirò quanti soldi ho fatto all'interno del mondo cripto, ti dirò quanti ne ho persi. Ti dirò esattamente quanti soldi ho perso all'interno del mondo delle criptovalute e specialmente, quindi in particolare, all'interno del mondo DeFi, quindi finanza decentralizzata. Ti dirò inoltre del perché sono felice, ok? Vabbè, non posso dirmi contento di aver perso tutti questi soldi, per carità, però ti dirò perché a me va bene così. Te lo spiegherò in questo video. Quindi iniziamo, intanto allora organizziamoci un attimo, giriamo la pagina se ci riusciamo. Ovviamente un minimo di sospanza te la devo mettere, quindi ti dirò più avanti quanti soldi ho perso. Prima di tutto ti voglio raffigurare una piramide, la piramide dei rischi, tanto per restare in tema di piramidi. Sembra che quasi tutto il nostro mondo funzioni, si possa raffigurare tramite una piramide. A parte gli scherzi, all'interno del mondo degli investimenti, della speculazione e in particolare delle cripto e della DeFi, c'è la piramide dei rischi. Quindi noi troviamo all'interno, parliamo intanto di DeFi, all'interno del mondo DeFi troviamo sicuramente quattro gradini di rischio, dove nella base della piramide c'è un rischio basso, quando si sale aumenta il rischio. Possiamo fare più soldi, per carità, nei gradini più alti, però possiamo anche perdere tanti più soldi, è più facile perdere soldi qua che qua. Quindi la base di questa piramide è riservata a rischi di basso livello, quindi a strategie, cripto, piattaforme, a basso rischio, quindi scriviamo intanto rischio basso. Poi c'è medio rischio, ovviamente, scriviamo medio, alto rischio e in DeFi, comunque nel mondo cripto, a differenza di altri strumenti finanziari, comunque del mondo finanziario tradizionale, troviamo il gradino DeGen. Poi ti dico cosa vuol dire, anzi te lo dico subito. Troviamo piattaforme o strategie che, almeno sulla carta, ti offrono rendimenti stratosferici. Comunque qua, se otteniamo esposizioni con il nostro portafoglio, ovviamente con una piccola parte del portafoglio qua, ci può andare o tanto bene o tanto male, quindi non si parla di fare un meno 10 o meno 20 sul capitale allocato qui in queste strategie, in queste piattaforme, in queste criptovalute. Qui si tratta o di azzerare il capitale o di fare veramente, veramente tanti soldi. Questa è la piramide DeFi, quindi a livello basso troviamo magari lending, liquid stacking, farming su piattaforme tranquille per poi salire. Io qui metterei magari i bridge sul rischio alto, perché ultimamente qualche problema ce l'hanno. Mentre se pensiamo a questa piramide nelle cripto, lasciamo stare il quadrante DeGen, qui potrebbe essere a rischio altissimo, troviamo magari bitcoin e stablecoin qua, poi dipende quali stablecoin, le large cap, le mid cap e le criptovalute da piccola o piccolissima capitalizzazione o le micro cap o nano cap, quindi piccolissime, avete rischi veramente estremi. Anche qua o va bene o la va o la spacca, cioè o va bene o va male. Allora adesso ti racconto la mia esperienza, ma partiamo dal 2018, perché anche nel 2018, dato che avevo iniziato ad investire, più in particolare a speculare, perché è nelle speculazioni che ho perso soldi, non negli investimenti. Comunque operavo già dal 2017. Nel 2018 cos'è successo? Non ho perso soldi qua, non ho perso soldi con stablecoin o con bitcoin. Con bitcoin ho sempre e solo guadagnato soldi, è incredibile. Poi magari può capitare che ho venduto qualche bitcoin prima del previsto o ho comprato qualcosa con bitcoin, è successo che ho comprato anche un caffè, allora 2 euro, adesso magari valgono tanti più soldi con bitcoin, però non ho mai perso soldi con bitcoin. Con le altcoin, rischio medio-alto, nel 2018 non ho perso chissà quanti soldi, sì, qualcosina sì, effettivamente, però ho fatto comunque più soldi rispetto a quanti non ho guadagnati. Nel quadrante degen, che allora non esisteva ancora probabilmente questa parola, si chiamava rischio altissimo, nel 2018 c'erano cosa? Le ICO, quindi il partecipare, tra virgolette, a startup o nuovi token, prima del listing, quindi in emissione, oppure c'erano i masternode nel 2018. Tra l'altro sono stato il primo su YouTube a parlare di masternode, ti puoi andare a ricercare anche quel video là. Sui masternode potevi fare varie strategie, basso rischio anche là, medio rischio e altissimo rischio. Io avevo fatto anche rischio altissimo, avevo quindi introdotto un'esposizione nel mio portafoglio su alcuni masternode, lì ho perso soldi sui masternode, ok? Già mettiamolo qui nel foglio, con i masternode nel 2018 persi 100.000 dollari, più o meno, ok? E sui masternode ho perso più soldi rispetto a quanti ne ho fatti. Nelle ICO anche nel 2018, però non è tanto vero, perché cosa è successo? Con le ICO c'è stato un periodo d'oro, quindi mettevi i soldi, facevi un per 30 con i tuoi capitali nel 2017, poi nel 2018 quasi tutte le ICO a cui avevo partecipato erano scese di valore, comunque si erano azzerate, però poi cosa è successo? A quasi tutte le ICO a cui ho partecipato, ovviamente non tutte, però a quasi tutte, è successo che si sono rivelate ICO di successo più avanti. Quindi più avanti in realtà, anche se di per lì avevo perso, sembrava che avevo perso soldi, era una perdita temporanea lì per lì, perché poi li ho recuperati con gli interessi. Però nei Masternode 100.000 dollari già se ne erano andati, e non era una perdita temporanea, veramente un azzeramento del capitale. Nel 2021-2022 è andata tanto forte la DeFi e in DeFi va tanto forte effettivamente questo quadrante qui. Quindi ricapitoliamo un po' la mia cosa è successo effettivamente, quanti soldi ho perso nel 2021-2022 all'interno del mondo cripto. Anche questa volta nel quadrante basso non ho perso nulla, quindi su Bitcoin, ripeto, anche qua non ho mai perso soldi, anche perché è salito e basta. Medio rischio, qualcosina sì per carità, su trading, speculativo, ho perso, però ne ho fatti più di quanti ne ho persi. Nel 2021-2022 questo gradino l'ho cancellato per me, per quanto mi riguarda, nel senso che non ho introdotto un'esposizione del mio portafoglio qua, quindi sono quasi sempre rimasto o su questi due gradini o su questo, ed è anche nel 2021-2022 che ho perso soldi qua, in questo gradino. Quindi in realtà nella mia storia all'interno del mondo del cripto ho perso soldi solo qua, non ho mai perso soldi qua, ho perso sempre soldi qua. Poi in realtà è andata bene, nel senso che ne ho fatti più di quanti ne ho persi, però qua qualche batosta l'ho presa, ok? Si può dire che l'ho presa. E questo anno, o meglio, 2021-2022, dov'è che ho perso soldi? Quanti ne ho persi? Dov'è che sono incappato? Allora, sono incappato da poco in una piattaforma degen, cui avevo fatto anche un video, e ho perso effettivamente 45.000 dollari, e qui li ho persi, non sono una perdita temporanea, ma sono stato liquidato, perché avevo fatto una strategia degen, già su una piattaforma degen, e qui sono stato liquidato, quindi margin call, bye bye, adios, i soldi, e qua, voglio precisare, ma come negli altri casi, che dopo ti dirò, qui sono incappato, a differenza dei masternod, dove non c'era un crimine finanziario dietro, qui sono incappato in una truffa o crimine finanziario, secondo me, anzi, senza secondo me, è quasi sicuro, non ne ho le prove, però è quasi sicuro. Successivamente, e questa è recente, questa perta, ok? Successivamente, o meglio, prima, prima di questa piattaforma, ho perso, su altre due piattaforme, sempre DeFi, su, su Phantom, su Blockchain Phantom, ho perso, 80k, tra Phantom e Avalan, ci ho perso 80k, questo perché, sempre per, sì, avevo ovviamente, rischiato un po' più del dovuto, quindi sempre ero su quadrante DeGen, su gradino DeGen, però, a differenza anche qua di masternod, sono incappato, in RUG, quindi, comunque, crimini, finanziari, truffe, e sono incappato in hack, o interni, o esterni, secondo me più hack interni, che esterni, però lasciamo perdere, tanto è sempre un furto di criptovalute, su una piattaforma, e quindi, ho perso, quest'anno, questa cifra, quindi, questa cifra, 125.000 dollari, l'ho persa quest'anno, più o meno, 100.000 dollari, nel 2018, quindi, ad oggi, ho perso, se non erro, 225.000 dollari, all'interno del mondo cripto, e per mia esperienza, ti dico, l'ho perso solo, ripeto, qua, ok? Mentre non mi è mai capitato di perderli, qua, per mia, per mia fortuna, ok? Ora, perché sono contento? Ti domanderai, ma perché allora, Filippo Angeloni, è contento di aver perso, 225.000 dollari, che è una cifra di tutto rispetto, nel senso, è tutto relativo, nella vita, nel mondo finanziario, però è una cifra che può essere un importo, può essere tantissimo per alcune persone, magari per altre no, però, per molte persone può essere tanto. Allora, intanto qua, devi mettere sempre una piccola, parte percentuale di portafoglio, e qua, devi essere consapevole dei rischi che corri, ok? Ti voglio fare un esempio, per fartelo capire meglio, rischio basso, se sei un autista, ok? O un pilota, vai per strada a 50-70 l'ora, può capitare un tamponamento, può capitare un incidente, però statisticamente non c'è un rischio effettivamente estremo, comunque può capitare, capiterà, prima o poi un tamponamento qua, se vai, se forse un po' la mano con il pedale, se vai in pista a 300 l'ora, puoi essere un eroe, un campione, puoi essere Valentino Rossi, però prima o poi tutti cadono, no? In pista a 300 l'ora con una moto, prima o poi ti sfracelli, o comunque cadi sull'asfalto, è normale. Quindi qui è veramente un alto rischio, è un alto rischio, le persone devono essere consapevoli dei rischi che corrono, io non ero consapevole, e qui tutti cadono, ok? Tutti cadono, non esiste, poi magari altri non ve lo dicono, sono magari meno trasparenti, però tutti siamo caduti qua, non se ne esce, chiunque va su questo garadino, cade qua, e perché sono contento, torniamo a noi, perché sono contento di aver ripersi? per due motivi, uno perché un fallimento è solo un fallimento solo se non apprendi da esso, perché noi impariamo, apprendiamo tramite gli errori, no? Già da scuola, da prima, da quando siamo neonati, tramite errore, quando il neonato cade, si rialza, poi apprendi, no? A camminare piano piano, e così via. Quindi un fallimento è solo un fallimento se non apprendi, e per me aver perso questa cifra qua, in realtà è un punto di forza, non di debolezza, perché ho preso veramente, veramente tanto, l'ho imparata in quello che gli americani chiamano The Hard Way, no? Quindi ho perso tanto, però ho preso tanto, e secondo motivo, nel mio caso, ma non voglio incentivare la speculazione, l'avidità estrema, perché qua si parla di avidità estrema, che tira fuori il meglio o il peggio delle persone, però qua nel mio caso, se non avessi allocato una piccola percentuale di portafoglio qua, non avrei guadagnato tanti, tanti soldi, che adesso non ti so dire, per ragioni di private o sicurezza, non voglio fare anche lo sbruffone, però qua ho comunque guadagnato di più di quanto ne ho perso, poi è ovvio, dà fastidio, perché nella nostra mente c'è il bias del loss aversion, quindi le perdite sono più importanti a livello mentale rispetto a quanti soldi guadagniamo, però se non avessi utilizzato questo gradino, almeno nel mio caso, non avrei fatto tanti altri soldi, ok? Questa è la verità, te lo voglio dire, ma non voglio incentivare questo, anzi, prima di questo devi mettere a posto già altre cose, infatti, ti dirai magari, sì Filippo, ma Warren Buffett dice sempre che la prima regola è mai perdere soldi nei mercati finanziari, la seconda, non dimenticarsi della prima regola, sì, però qua sono due campi diversi, sono due giochi totalmente diversi, Warren parla di investimenti, giustamente, qui si parla, soprattutto su DeGen, su DeFi, si parla di speculazione, ok? Sono due campi differenti, e anche Benjamin Graham, che è maestro e mentor di Warren Buffett nel libro L'investitore intelligente, L'intelligent investor, dedica un piccolo capitoletto alla speculazione, anche lui dice che se prima metti a posto delle situazioni, quindi se prima ti assicuri, poi hai un fondo di emergenza, di liquidità, degli acquisti, poi investi, e gran parte del tuo patrimonio è investimenti e poi alla fine speculi ci può stare, quindi anche lui ti va a ridire, Benjamin Graham, non lo dico io, Benjamin Graham, ti va a dire che con una piccola percentuale di portafoglio ci può stare, ti ricorda inoltre, questo lo devi sapere, è importantissimo, ascoltarmi bene, che più del 90% delle persone perde soldi qua, ok? Nell'alto rischio, nella speculazione, il 90% delle persone passa, perde soldi, però è anche vero che se uno non è nella media, ok? Può fare soldi qua, può fare soldi, ripeto, non voglio incentivare le speculazioni, prima devi mettere a posto delle cose, devi avere ovviamente bitcoin, devi essere assicurato e tutto, però anche lo stesso Benjamin Graham dice che una piccola percentuale di portafoglio, abbiamo coniato anche il termine cippino, ok? Noi della crypto community, ne abbiamo fatte tante ultimamente, ci può stare, ci può stare, devi essere consapevole che o a zero il capitale o ne fai tanti di soldi. Tutto sommato a me è andata molto bene, quindi sono, ripeto, sono felice, dà sempre ovviamente fastidio, però questo per me è un punto di forza, ok? Quindi persi 200, a Spagna, 225.000 dollari in DeFi, per oggi è tutto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto anche sapere effettivamente quanti soldi si possono arrivare a perdere, comunque ripeto, è normale, è normalissimo perdere soldi se vai qua con consapevolezza, è normale, e noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere anche se avete apprezzato un po' di trasparenza, ok? Con le perdite, cosa che nessuno fa, ci vediamo al prossimo video, ciao!